Bella a tutti ragazzi, io sono Platino e Trento e oggi siamo in un video di GT5 Online. Oggi vi farò vedere come entra nella casa di Leicester. Forse molti di voi la conosceranno, è quello che vi aiuterà a fare delle rapine in banca. Comunque a parte questo vi dico dove si trova la casa di Leicester, si trova in questa parte a est, precisamente vicino a questa autostrada, vicino ai totuaggi, si trova in questo veicolo. E' un po' difficile trovarlo la prima volta ma poi lo capire subito dal video. Comunque iniziamo. Allora cosa dovete fare? Dovete andare qui sopra, a ricarvi la sua casa. Qua ci sono le telecamere, lasciamo stare. Qua saliamo qui sopra, poi ci dobbiamo mettere un po' più a sinistra, un attimo per essere precisi, a sinistra, un attimo, per essere perfetto il posto. Ecco così. Poi cosa dovete fare? Dovete andare sulla destra attività e fare una qualsiasi missione, però che sia di Gerard, Martin e di Simon. Comunque io faccio Gerard. Voi ci entrate, dopo che entrate uscite, un attimo che carica, le canzoni no, le canzoni no, mi danno il copyright. Comunque mi ascolta, comunque usciamo. Ok, e dodiche vi farà spawnare dentro la casa di Lester. Guardate ragazzi, è come nella storia. guardate. Qua potete ascoltarmi dalla polizia, potete trollare i vostri amici. Ah, si può anche andare sul computer. Che figata. Non lo sapevo. Ho scoperto ora. Comunque, ragazzi questa è la casa di Lester. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, arriviamo a 10 like per un prossimo video. Noi ci vediamo alla prossima. Bella.